Come valutate questa prima trasferta stagionale? Da che punto di vista? Da punto di vista tecnico, tattico? Andata bene? Andata bene, sicuramente non eravamo molto fresche. Immigiorabile la resistenza fisica in campo. Noi siamo abbastanza contenti, esatto, anche perché la squadra è nuova. Poi avete fatto un primo set molto convincente, il secondo è stato alquanto combattuto, qua il terzo avete un po' già mollato il colpo e da lì il cambio palle è diventato un po' macchinoso e a scappi. Come mai? Diciamo che non abbiamo più la testa, c'è stato proprio un cambio squadra, infatti non era proprio la squadra... Sì, siamo sempre state una squadra molto umorale, devo dire. Cioè nel momento in cui manca quel qualcosa poi si va in tilt, è la nostra pecca. È la nostra pecca ma anche il nostro punto di forza, ovvio. Perfetto. Per ultimo, qual è l'obiettivo stagionale? Avete un obiettivo? Sicuramente vincere il campionato, non arrivare ai regionali come l'anno scorso. No, non l'abbiamo su due anni fa, perché l'anno scorso io non c'era. Perfetto, grazie mille in bocca al lupo.